I giacchi ci sono, io gli lancio pure una scarpa così impara quel bastardo No, figliati la scarpa, mangia di questa Mangiati la vecchia ciabatta di mia nonna Sento un topo La lattina la possiamo anche lasciare lì Cosa fa? Mi cade dentro? Oh! Topi! Da dove siete fuggiti, topi? Non lo sapremo mai Qui forse possiamo salire, vedete c'è una maniglia Deve essere qualcosa che dobbiamo fare da qui Ah, ma c'è un asse! Vai, spingi Ok Vediamo di non cadere giù No, vabbè era semplicissimo Io come sempre cerco delle soluzioni super complicate per cose incredibilmente semplici Ah, ok, dobbiamo correre probabilmente Vai, 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 vai Qui! Sì, vabbè, io col cavolo che ci vado lì nell'acqua col mostro E invece Ok, non c'è il mostro Siamo liberi Siamo liberi di salire sulle sedie Posso portarti con me Sedia Vieni, andiamo Andiamo se riesco a spingere questa sedia dove voglio io Vai sedia Mamma mia che fatica Dai Non ci riesco Vigi la sedia No, la sedia non viene Non collabora Ah, però ci sono delle maniglie lì Magari la sedia nemmeno mi serve E infatti Va bene Ma qui c'eravamo già stati con Six, mi sa, eh Magari mi sbaglio, ma Sono quasi sicura di esserci già stata con Six Quasi Non sono mai sicura di niente Ehi, un momento Lì serve una chiave Sarà sicuramente dentro il vaso Ah, dobbiamo saltare da quassù Sì Forse Sì, da sopra Da sopra Prendi la rincorsa Ole Wow, precisa E vai No, 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 no Corri, 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 bambino Corri, corri, corri Corri, corri, corri C'è un melbosino schifoso Ok Vediamo che il melbosino se ne vada E poi andiamo a prendere la chiave E cerchiamo di aprire La serratura Bravo, vieni qui Bravissimo Ora tu corri Corri, 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 corri Corri che quello è lento Corri, corri Non ti incastrare nelle cose Chiave Facciamo il giro del tavolo Eh, lo fa lui il giro del tavolo Bomma Ah, non posso correre finché ho la chiave È così pesante? No, sì che puoi correre No Cosa? Mi ha teleportato In Arcadia Vai Apri Ok L'abbiamo fatta Sali Probabilmente sarà ad allagare anche questa zona Tanto dobbiamo allagarle tutte per salire Ma non è vero Mi smettisco dopo due secondi Perché mi sa tanto che se allago la zona Prendo una bella scossa qua Questa è da premere Che ho fatto? Ho abbassato l'acqua Ah ma c'è questo pure Eh Non l'avevo visto Vai giù nell'acqua Ah vedete C'era il trucco Via Sono passata con la frangia Un centimetro da quel Da quel cavo scoperto Proprio un centimetro Ma direttamente spostarlo No vero? Perché si prende la scossa Possiamo riuscire Allora Quindi questo mettiamola ad un'altezza Adeguata Tipo qui Acqua Qui Qui E qui Mamma mia Ho porti E cosa abbiamo? Altre cose nere schifose No È un buco Che è successo? Avevo due possibili strade Quindi è da rigiocare Perché ne avevo due possibili Aiuto Che succede? Che succede? Ecco quel coso che mi insegue Vai sali Avanti Sali 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 Se noi siamo abbastanza veloci In realtà riusciamo a avvitarlo Perché lui ci mette un po' Ad uscire dall'acqua Non esce subito Oh la hai la coda di pesce Gliela lanciamo Vai Vai a prenderla Vai Corso lì Non la faremo? No Dai 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 Sali 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 Mamma mia Ok Prossima meta Eh no ma è troppo vicina Troppo vicina No ci abbiamo fatto ok Il blocco veramente mette l'ansia addosso Adesso dobbiamo arrivare lì Basta smettila Mi fa paura Corri Cioè nuota Fai qualcosa Muoviti bambino Bravone Corri 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 Wow Wow Vai sulle botti Salta Dai 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 Qui non può farci cadere Vero? Ma invece sì No 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 Questo ci butta per terra In due secondi Sono morta Sono incredibilmente morta Ma porca miseria Una volta che c'eravamo Era giusto Ah ti prego Non farmelo rifare da capo Oh ma ti voglio bene Meno male Non lo facevo Rifare da capo Mi sparavo veramente Vai sali Salta Barca Oh Ok Adesso Io ho bisogno di questa marchetta Non lo so ragazzi Veramente Ho provato anche a saltare Più in là che potevo Ma Qui comunque viene Preso Ah Non so come ho fatto Ma l'ho fatto Sono molto soddisfatta Ok Vai Perfetto Adesso Cosa succede Se pigio quel pulsante Pigia Che l'acqua va giù E poi Non posso andare Dall'altra parte Giusto? Ma perché forse Io la devo tirare Da qualche parte Ma c'è una scala Ci sono due scale Però non mi serviva saltare Eh ma no Eh no ragazzi Troppo semplice È troppo semplice Di sicuro c'è l'inghippo E invece no E invece sì C'è la leva Eccola lì Prendi la leva Ma ci possiamo andare? No No lì è chiuso Quindi lancia La leva Buttati Mi sa che l'acqua Era un po' Un po' Un po' Giusto Qualche centimetro Ci siamo spaccati La faccia Lancio Benissimo Bene Ti prova Lancio No Ok ci puoi ritrovare Per favore Dai Un po' Di sprint Oh Secondo me Mangia poco Questo bambino Non c'ha per niente Forza Dai Tira Tira Che ci siamo Tira Oh Ok Ce la faranno i nostri eroi ad utilizzare quella leva Pulsante Guarda che se mi cade di nuovo Veramente faccio un casino Vai Oh Vai è stata durissima ma ce l'abbiamo fatta Olè Ah Tutto ciò per aprire quella porta Va bene Che si chiude pure velocemente Sì Però ce la possiamo fare Perché ci ha messo così tanto adesso? Oh ma vai È il nostro momento Billy L'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Tutti a berlino No Per cadere È stata un millimetro dal cadere Vai Billy Sei un grande Hai fatto questo Puoi fare tutto Nella vita Può cadere sopra una porta Oh L'avete visto? Oh mio dio Ok Mi ha distrutto la porta Mi sta tirando giù Mi sta mangiando Eh sì Ciao che io arrivo lì Ok vabbè Aspettiamo Alta su ti prego Questa mi distrugge tutto O questo Non lo so Non capisco il sesso della creatura Che ci sta inseguendo Ma penso Di non volerlo Nemmeno sapere Ok No No Ma qui mi mangia subito Proprio No Ok Sta andando tutto incredibilmente bene Vedevo l'ora Vedevo l'ora di guardare la tv È proprio il momento migliore Wow Bella la tv Dovevo forse usare Questa lampada Per arrivare dall'altra parte Potrebbe essere Sì Ma ti bruciano le mani Bambino Zio fiocco Sali Vai Vai Poi Oddio Ok No 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 Qua 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 No Mi sa che dovevo rimanere la sua E friggere Sì E friggerlo Eee Buona morte a me Buona morte a me E sì Mi ha tirato giù E ciao Oddio Sì Dai 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 Qua che ti riegi tutto Vai la tv Sta tv Sta tv Svelto 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 Vai Wow Direi che ha funzionato Sto giro Ma bellissimo E' stata una figata E' stata una delle cose più belle che ho mai fatto in un videogioco Friggere un signore anziano che esce dall'acqua Bellissimo Ci posso ancora pensare Cosa c'è? Li vedo la bottiglia La posso tirare? Sì Tira uno Tira due E prendiamo la bottiglia Ma come si prendeva la prima? Tappa Però non riesco a capire cosa succede quando sappiamo le bottiglie Tira fuori una specie di pezzo di carta C'è un pezzo di carta dentro quelle bottiglie Chissà cosa succedeva se le prendevamo tutte Oh Magari c'è un finale segreto? E' come quelle bamboline O se abbracciavamo tutti i conini Cambiavano delle cose secondo me Ah quella bottiglia secondo me non ci serve Un po' grossa Dalla faccia Non finisce più sta scala? Mi sa che usciamo Dalla nave No Eh ho capito ma Che? Basta? Game over? Oh Six Ma non ci credo Ma ve lo ricordate Quando Six è fuggita Che c'erano tutti i bambini qua? Quella è Six No ragazzi Ho sbloccato l'achievement Chiamato così vicino Quindi lui non è mai riuscito a fuggire No 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 Ma che brutto Ma no Quindi lui non è mai riuscito a fuggire Se l'è mangiato Eravamo così vicini da riuscire a fuggire No Ma chissà se rigiocandolo cambia qualcosa Ma non è mai riuscito a fuggire No Now Ma C'è Ma